Buongiorno Facciamo perdere, non fa nemmeno ridere E comunque Buttiamo, facciamo un'altra cesta A me piacciono le cose separate diciamo Ok, mettiamoci tutte le cose I materiali Ok Ok, primo macchinario ragazzi Facciamo ora il primo macchinario Perché abbiamo il quarzo, come vi ho detto il quarzo non si lasciamo indietro E' più importante di vostra sorella Ok, per chi c'ha una sorella ovviamente Ok, inizia Ok, no aspettate, devo cuocere Hector, devo usare meno ok, cazzo Ok Non funziona Cioè io senza ok non ci riesco a parlare, non so perché Sì Mangiamo Ok E basta, porca miseria Comunque faremo il green Il green cianciano Green stone Green stone Aspettate un attimo Ah, c'è il sistema Questa cosa è molto utile Specialmente per i nabbi O specialmente per i dynamic Ok, ci serve una rotella Ovviamente tutto Le rotelle fanno parte della Della industrial craft Comunque facciamoci una rotella Ok, prima di fare una rotella Facciamoci una maniglia Una maniglia che serve per questo strumento Che è questo qui Basta che mettete così E' una specie di boomerang E praticamente Ehm Prendiamo del quarzo Del quarzo Del quarzo Tre quartaz Dust Che cosa c'è poi? Ehm Ah, tre due Ok, cuasciamo Tre Guarda, facciamo Una quindicina di cose Perché servono Nonché dopo E' già arrivato notte Io non ho ancora trovato Le pecore Qua devo spillare Anche per le pecore Cacciamo Perché sennò Rischiamo di morire Ok, ragazzi Abbiamo finito di cuocere Quattro Cosettine Scusate per questo taglio Perché questo taglio Non era previsto Però ho dovuto farlo Ok Mettiamoci Le cosettine Tre stone E due Cobblestone E abbiamo Il grinder Mettiamolo da Questa parte Il grinder E' praticamente Un macchinario Per Tritare Aspettate Che tolgo Sto waypoint Dalla faccia Dalla faccia Point Ah, mentre Vabbè Sto qui è un waypoint Che avevo messo di solito Vabbè Dynamic gay Perché Non lo so Non mi veniva niente in mente Ok Facciamo così Togliamo Il waypoint E praticamente Questo è un macchinario Diciamo Più che un macchinario Una cosa Che si usava All'attività Vabbè Quello che è Si mette Il vostro materiale Per raddoppiarlo Dato che ora Non abbiamo corrente Non abbiamo niente Non possiamo fare niente Della industrial craft O della Quell'altro Dove ci sono Il Vabbè Quelle altre cose Non possiamo fare niente Quindi Per Dobbiamo fare Sto lavoro E quindi Vi taglio Sto pezzo Che io Picchio Un ramoscello Di albero Una cosa del genere Ci mancano Altri due Ultimi due Ultimi tre Volevo dire Quindi Continuiamo Continuiamo Ah E mi sono divertito Tanto Per due ore Due ore Facendo girare Sto cavolo Di Cosettino Vediamo se funziona Da sopra Ok Non posso andare sopra Perché Non ho spazio Comunque Picchiamo Dai picchia Ok Finito Eh Ora Sempre una parte noiosa Dobbiamo cuocerli Cioè Dopo il tritatutto Ah Questa volta Non è servito a niente La fornace Perché siamo ritornati a casa Quindi Ok Io metterei Metà qua Metà qua Metà qua Però Direi Direi 16 Qua 16 Qua E 16 Qua E Restato Qua Quindi Questi Dove è il carbone C'è Il carbone E quindi Due Due Si Madonna Ecco Cos'ho messo Eh Due Due Che E La stone Per ora La mettiamo qua E Anche la gravel Che sta cazzata Il cristallo Che non serveva mai niente Che non serveva mai niente E La cannezza zucchero Il mushroom Che andiamo Le cose La prima cosa da fare È un piccone di ferro Piccone di ferro La seconda cosa da fare È una spada di ferro C'è gli attrezzi Prima le attrezzi Poi le cazzate Atrezzi Ok Non riusciamo a fare Una batbox Però No Non riusciamo a fare Una batbox Ragazzi Perché ci manca La gomma Abbiamo il piccone La spada Eh La pala Non ci serve Cioè Non ci serve Oggi tanto E questi Karach Coal Lo facciamo diventare Le torce Che abbiamo finito Io direi Di farmi anche L'armatura Così non rischio Di morire Almeno Il chestplate No vabbè Faccio solo Il chestplate L'altro ferro Lo usiamo Per fare qualcosa Vediamo cosa Possiamo fare Qui c'è L'industrial craft Come sempre In tutte le cose C'è sempre L'industrial craft Però Vorrei Cercare Quell'altro Che non so Come si chiama Non mi ricordo Pulverizzo Che cosa mi serve Per fare Pulverizzo Ti pareva Ti serve L'oro Ragazzi Dobbiamo andare In caverna Che vi dico Vi taglio La parte Della caverna Poi ritorniamo E facciamo Delle cose Belle Ok quindi Io ritorno In caverna E ci vediamo Tra un po' Con un po' Di materiali Ciao a tutti ragazzi Sono tornato Della caverna Dopo una Lunga Esplorazione E sono quasi Cioè sono affamatissimo Infatti Mi sono scordato Ammazzare Poglio O fare qualcosa Per il cibo E Ora non so Cosa fare Veramente Ma devo andare A cercare Devo andare A caccia di cibo Diciamo Di notte E mi faranno Il culo Di sicuro Loro Loro Intendano dire Quello lì Fanculo Vosco di merda Non si trova Niente Dai Cioè Non chiedo molto Almeno due polli Dai No Se lo scheletro Mi lo ha shot Siamo Cioè Sarei morto Anche ora Perché Lasciamo perdere Perché dai Cioè Non posso perdere Metà episodio Cercando il cibo Vedete che vi dico Mi mangio Il rotten flesh Mi sto fermo qua Ah me ne sono accorto Che Mangiando Un Rotten flesh Cioè E' quelli La carne dei zombie Non bi Non bi Dai Cosino Come si Come si Dice Eh La Affanculo Non mi viene Una parola Ho due cuori Ho due cuori Ho due Fottutissimi cuori Cioè Sapete che morirei Anche facendo Una caduta Semplicemente Una caduta Grande zombie Di merda Oh no no Lo scheletro Lo scheletro Lo scheletro No no Lo scheletro No Ecco 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 E dove cazzo Sono sponato Eh Eeeh Cioè 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 Quello di merda Perché non c'è Del colposto Vabbè ragazzi Che devo fare Eeeh 600 me Ecco Vaffanculo Vaffanculo Ok Guarda Cioè Tutto a me Eh Vaffanculo Tu Una donna Vaffanculo Aaaaaah Vabbè 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 Donna Tua Madre Puttane Nella Di Diciamo perdere Eeeh Le cose che capitano A questo mod Ok Però non mi ricordo Nemmeno Ecco Sono morto lì Eh ragazzi Che vi dico Ci vediamo Di mattina A casa mia Dove ritornare Ok Taglio questo pezzo Di 600 metri Quindi ci vediamo Tra 600 metri Ragazzi Ragazzi Sono riuscito A tornare A casa E questa volta Non voglio morire Quindi Raccogliamoci Tutto Ammazziamo Sto figlio Buona E mentre stava arrivando Ho trovato Delle mucche Quindi Mi sono fatto Un po' Di scorta Di cibo Ora Chiudiamo Sto fottutissimo Non posso Non posso nemmeno Chiudere E Affanno Cioè Togliamo Questi Death point Ok No Ok Death point Remove 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 Dato che io Avevo Visto Prima All'inizio Prima di venire qua Avete visto Che ho dovuto Fare la strada Perché Che il mio Spawn point È moltissimo Molto lontano Ho dovuto Cercare la pianura E Non interessa Stava arrivando E ho trovato Ho trovato Ho trovato Un villaggio Quindi io Tra questo episodio Cioè Nel prossimo episodio Andrei a cercare Sto villaggio Quindi Dire che L'episodio Finisce qua Volevo fare Qualcos'altro Dato che Eh però Dato che ha fatto 600 metri Per arrivare qua Ci vediamo Al prossimo Video di ragazzi Quindi Al secondo episodio Che Lo lascerò Domani Forse Beh ciao a tutti